14 arresti, 12 in carcere, 2 ai domiciliari, 30 kg di cocaina, 1,5 di eroina, sequestri di natura patrimoniale. È l'esito della maxi operazione della squadra mobile avvenuta alle prime ore dell'alba nel quadrilatero di via Piave a Mestre. Oltre 100 gli agenti impegnati nell'operazione con il supporto delle squadre mobili delle altre province del Veneto e del reparto prevenzione e crimine di Padova. Un'indagine durata due anni e mezzo avviata nell'ottobre 2021 grazie alla segnalazione di un residente. Le indagini sono partite da un bar dove la polizia aveva accertato un fenomeno di spaccio ed è da lì che poi nel corso del tempo si è risaliti passo dopo passo a questa complessa gestione dello spaccio in quelle zone. Sono state sequestrate tre pistole di cui due recenti e una di cui stiamo accertando l'effettività cioè se è davvero una pistola o se è un residuato bellico. Una peculiarità che ritengo di grande rilevanza che è il sequestro patrimoniale quindi un'attività di indagine dal punto di vista degli accertamenti patrimoniali che ha fatto un percorso parallelo con l'attività di indagine di polizia giudiziaria. Insieme a questo esercizio commerciale ci sono in sequestro altre tre autovetture, un terreno, un immobile e l'attività è attualmente ancora in corso perché evidentemente bisogna fare accesso ai conti correnti. Un'attività molto complessa sviluppatasi con appostamenti, telecamere fisse e mobili all'interno e all'esterno, l'utilizzo delle intercettazioni. Le intercettazioni sono state fondamentali e alle intercettazioni naturalmente è stato fatto sempre il con le attività di controllo sul territorio, con le videoriprese e con le indagini classiche che hanno, che devono ogni volta essere fatte per vedere se le intercettazioni hanno un effetto reale oppure se si tratta di chiacchiere tra amici. Oltre ai 14 arrestati di nazionalità italiana e albanese sono stati eseguiti anche 20 decreti di perquisizione personale e locale nei confronti di altre persone per un totale di 34 indagati.